Sono stati sequestrati a Napoli 154 uccelli da parte del gruppo carabinieri forestale della città metropolitana. Il proprietario è un uomo di 56 anni. I militari appartenenti al Nucleo Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione, insieme ai dirigenti veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro, durante i controlli presso un'attività commerciale di proprietà di un uomo, sono emerse diverse criticità relative alla detenzione e al benessere degli animali. Un controllo finalizzato alla corretta applicazione della normativa di attuazione della Convenzione di Washington e alla verifica della loro salute che però ha avuto esito negativo, tant'è che 154 uccelli sono stati sequestrati e il 56enne denunciato. I volateli infatti erano rinchiusi in un ambiente piccolo, scarsamente areato ed illuminato e con gabbie sporche. Addirittura durante gli accertamenti è risultato che tre pappagalli erano probabilmente ammalati. Sono tante le associazioni animaliste che combattono la compravendita di animali che sono privati della loro libertà e che non vivono nel loro habitat naturale. Denunciano che ciò non è altro che un business di dimensioni impressionanti a livello internazionale sia in forma legale che illegale e che al più presto andrebbe arrestato.